In cucina con Masterchef, lo chef più amato delle italiane Vengo a casa vostra per un mese a mangiare e dormire Pagato da voi con anche uno stipendio senza impegno Ok, questa sera facciamo una ricetta davvero davvero coatta Delighedissima Sto parlando dei carciofi alla romana Le abbiamo pagati 70 euro l'uno E la madonna E il limone Signora, i limoni, signora! Adesso andiamo a preparare i nostri carciofi Il nostro carciofo è pulito, quindi gambo pulito Adesso ci manca praticamente di tagliargli la punta Adesso andiamo a preparare i carciofi Ma come sono coatti, ma come sono coatti Mmm, che profumine Che avete cucinato buonoci, pulpe di merda